Imparare a programmare costruendo giochi è uno dei metodi più efficaci per fare coding a scuola. I giochi in generale sono una potentissima leva motivazionale e progettarli consente di sviluppare competenze di problem posing e unsorving. Tra le piattaforme di sviluppo di giochi utili in abito didattico interessatissimo è MakeCodeArcade che permette lo sviluppo di giochi arcade di tipo platform tanto in voga negli anni 80 e 90. Durante il corso come creare videogiochi con il coding verrà mostrato come utilizzare MakeCodeArcade per sviluppare una serie di giochi con gradi di difficoltà crescenti in cui ad ogni passo verranno aggiunte nuove istruzioni che ne aumenteranno l'interattività. Ogni gioco sviluppato durante il corso costituirà un'esercitazione di laboratorio che il docente potrà riutilizzare come base di partenza per strutturare un proprio percorso di coding.